buongiorno facciamoci qua così non vedete il casino così non vedete niente no vedete ok facciamo così che salvezza la vita buongiorno oggi è domenica 19 oggi dovevo andare al Cosmoprof per la seconda giornata però ero assolutamente troppo stanca dalla giornata di venerdì sono distrutta in sostanza ho le gambe che mi fanno male i piedi che mi fanno male sono un rottame umano e quindi siamo è la partita della sveglia e quindi alla fine non ci siamo andati siamo rimasti qua a Roma dobbiamo fare tanto comunque anche delle cose qui e questo è lo smolto dell'opi no della fabi scusate lo smolto della fabi che mi hanno dato in fiera è carino è un bianco molto lattiginoso trasparente abbastanza trasparente però lo trovo molto elegante non mi dispiace mi sa che io uso smalti miccoprenti però questo non mi dispiace sapete sì 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 e quindi adesso sto facendo un po' di pulizia a casa stavo lavando i piatti e mi sono preparata il fitti vediamo insieme ok quindi ci vediamo nel corso della giornata ciao non c'è nemmeno mia che andrà a fare la passeggiata con il nonno quindi non c'è nemmeno la salciccita da farvi vedere Marco andrà a vedere la casa del fratello quindi siamo io qui e adesso c'è mia suocera e c'è Giorgia che canta allo stereo ok e dopo ciao ciao non so di niente cioè non è cattivo però non è meno ha un sapore normale è bevibile non c'è male ok si può bere meno male è una terrorizzata va bene sicuramente pensavo peggio però belli mi piace questo e questo è bello mi piace questo provi a essere tutti lucciosi oh vanno tutti modesti così qua qua questi così vedo gli accessori però quello mi piace ma mi piace mi piacciono pure questi si si siamo andati da con un foramo non si vede a vedere che cosa di particolare niente niente abbiamo visto un po' di lampade un po' di impicci ma se no di qua un po' di impicci quindi dobbiamo andare sempre a fare un giretto e adesso quella sera continuiamo i giretti e andiamo a dare come compro i jeans stanchezza ci abbiamo metà babbo babbo ciao ma te sei in mezzo ancora il giorno giorno a me per questa